Attenzione a utilizzare i bitcoin. Il monito arriva dall'ABA, l'autorità bancaria europea che regolamenta il settore. I bitcoin, dice l'Europa, restano una moneta virtuale, quindi è impossibile salvaguardare chi va incontro a forti perdite finanziarie dovute alla chiusura, al fallimento di una piattaforma che scambia questa valuta. Warning simili erano già stati lanciati dalla banca centrale cinese e dalla banca di Francia. L'ABA aggiunge che il valore dei bitcoin può andare incontro a violente fluttuazioni, mentre i portafogli virtuali rischiano di essere preda di pirati informatici.